Anche se non lo sappiamo, noi viviamo immersi nelle nuvole, la terra ne è coperta, dormono sui tetti, nei fiumi, sulle cime degli alberi. Sono solo aria e acqua, invisibili all'occhio dell'uomo. Attendono che il sole venga a svegliarle. Il calore le solleva da terra e le attira verso l'alto. Salendo l'aria sfida temperature sempre più basse, fino a un punto preciso, in mezzo al cielo, dove l'acqua si condensa in forme cangiante. Gli hanno dato un nome bellissimo. Punto di rugiada. Il luogo dove nascono le nuvole.